Con il capitano Vittoria Repice presentiamo il prossimo impegno del volo esoterato, si va in trasferta contro una compagine ostica come il Talmasovski all'andata, diede parecchio di profilo da torcia alla squadra, un esoterato voglioso di riscatto dopo la bella prestazione che però non ha portato questa volta a punti contro la capolista Maricola. Sì, andremo ad affrontare una squadra ostica che gioca bene, abbastanza equilibrata, che nel muro difesa è molto organizzata e già c'è da torcia all'andata, però credo che stiamo dimostrando una forte crescita sia fisica che anche a livelli di gioco e diciamo che andiamo lì forti delle ultime prestazioni anche dell'ultima partita e andiamo con tanta voglia di far bene. Tornando alla partita di domenica scorsa in casa persa con Marignano, rimane sicuramente l'ottima prestazione, è una squadra fortissima che sta dominando questo girone, forse un po' di rammarico per il risultato finale, forse si meritava qualcosina in più per quello che si è visto sulla... Beh, comunque loro sono una squadra che fino adesso ha dominato il campionato. Sì, tanto rammarico, però ripeto, abbiamo fatto una gran bella prestazione, anzi in alcuni momenti penso che siamo stati superiori a loro e ripeto, noi fisicamente siamo in gran crescita e stiamo dimostrando anche un livello di gioco molto alto e siamo abbastanza contente, abbiamo dimostrato di aver giocato, di saper giocare alla pari della prima in classifica, quindi niente, testa ovviamente sulle prossime partite, piedi a terra e andiamo avanti. Grazie.